buongiorno buona tarda mattina questa è una nuova tipologia di video spogliamo insieme il volantino di euro spin di questa settimana allora questo volantino va dal 4 ottobre 14 ottobre 2018 perciò a partire da ieri e il 5 al 6 ottobre oggi e domani c'è in offerta con un minimo di dispesa di 30 euro la crepiera con una padella da 28 centimetri con rivestimento antiaderente con la spatola e paletta allora scusate questo video verrà un po mosso partiamo subito dalla zona di delle verdure c'è l'uva 1 euro e 29 i finocchi le zucchine tutte le verdure e poi tutti i prodotti amo essere senza glutine amo essere senza lattosio perciò penso gli yogurt il latte e amo essere biologico la macelleria la carne il tritato l'agnello porzionato e varie cose e anche i tramezzini assortiti o mette a fuoco poi girando pagina ci sono i salumi il prosciutto crudo e poi ci sono la scamozza sfumicata 1 euro e 19 e la provola dolce e poi la feta gheica 1 euro e 29 i formaggini forse sono formaggini una specie di formaggio 1 euro e 49 c'è il salame poi c'è la mortadella 0 55 la pancetta dolce a cubetti 0 65 poi la simile filadelfia e le ricottine interessanti sono gli gnocchi di patate 0 79 centesimi e le tortelle e i funghi porcini da 500 grammi poi c'è l'albume d'uovo se lo usate la pasta di semola assortita non lo so tortiglioni fusilli spaghetti e varie gli yogurt yogurt intero sempre gusti assortiti 0 59 centesimi oppure quello là il simile fruttolo yogurt intero la banana fragola e confetti a cioccolato tipo leaf martis poi c'è il simile activia che è 1 euro e 99 bifidos fibre frutti e cereali poi la farina per pizze per dolci e giriamo pagina qui c'è l'olio e l'olio extravergine d'oliva frantoio la rocca le vongole la passata di pomodoro 0 39 centesimi e poi il risorborio poi ci sono le le antipasto per verdure 1 euro e 49 l'olio di semi 99 centesimi i funghi trifolati in latta e poi c'è il tonno l'olio d'oliva della marca atena e piselli fini poi qua ci sono le simile gocciole gocce di cioccolato frollini gocce di cioccolato 1 e 29 il pane tramezzino 49 in grissini 89 centesimi le patatine al gusto di paprika il caffè classico 0 69 i simile tegolini che si chiamano ghiri go e sono 10 pezzi 99 centesimi i croissant all'albicocca sono 10 1 e 19 e biscotti simile oro saiva petit 89 centesimi poi c'è una torta tiramisù e una torta cioccolato poi ci sono le chewing gum e le bevande di riso soia che sono molto buone queste 95 centesimi passando oltre scusatemi allora abbiamo tutta la linea per i bambini le prime pappe con lo sconto del 20 per cento i vini montepulciano d'abruzzo nero di amola 2 69 poi c'è il succo di frutta la bevanda alla frutta al gusto assortiti 75 centesimi il succo alla mela puerto sol poi c'è la tonica al limone il pompelmo rosa e 45 centesimi la carta igienica 1 euro e 49 la carta di alluminio 1 euro e 49 il sapone liquido neutro 0 79 centesimi quello all'aloe e poi colorà neutro i tovaglioli feme oli 1 euro e 19 e poi c'è dexal monodosi per lavatrice poi c'è il detersivo liquido per lana è delicato e l'ammorbidente concentrato 750 grammi questi sono della linea incontri avvolgenti e ci sono varie profumazioni poi c'è il disinfettante per il bagno 99 centesimi e il mangiare per i gatti e per i cagnolini poi ci sono le batterie e poi il lavapavimenti sempre dexal agli agrumi molto attivo 75 centesimi passando oltre abbiamo i surgelati ci sono le bietoline proporzionate 89 centesimi le crocchette di patate i funghi porcini a cubetti 2,39 la zuppa di pesce 3,79 le mazzancolle tropicali a 4,99 le cozze cilene 1,59 e il sugo alle vongole 1,99 poi ci sono i simili sofficini chiamati fangottini allora sono al gusto di prosciutto e mozzarella formaggio e pomodoro e poi anche quelli al ai funghi poi ci sono le tre pizze margherita che sono 2,99 poi ancora ci sono ancora li vendono i gelati i simili magnum e i simili cornetti algida 1,79 poi qui abbiamo il riso roma 1,19 le crostatine 0,79 la crema per il corpo e mani forse 99 centesimi lo shampoo assortito e la birra leggera 39 centesimi e poi qui abbiamo un bottiglione di sgrassatore gel concentrato 1,29 poi qui abbiamo il liquido per lavatrice per colorati con agenti smacchianti 2,29 questo sarebbe interessante poi qui abbiamo diciamo la solumeria dopo dalla linea le nostre stelle e qui abbiamo il pecorino fiore sardo che proviene dalla sardegna in grana padano 3,49 che è 20 mesi di stagionatura i cappelletti con prosciutto di parma e parmigiano reggiano questi qui c'è scritto una novità yogurt cremoso questi qua sono troppo buoni quelli alla nocciola io ho assaggiato gli altri gusti non li ho mai assaggiati comunque ci sono dei grumi di sicilia e anche al caffè ho assaggiato ed è buono qui abbiamo il riso venere che io non ho mai assaggiato ma non mi attira 2,29 poi il pomodoro san marzano e il latta il patè di carciofi e il cioccolato sbizzero extra fondente interessante al 75-85% 100 grammi 1,19 poi abbiamo il caffè di arabica di etiopia e guatemala nella latta ed è 250 grammi 2,99 e poi qui abbiamo la pasta di categoria tremolini questa qua migliore penne rigate casarecce e fusilli sarà molto buona 500 grammi a pacco e poi qui abbiamo tutte le offerte ricordanti la casa le lenzuola offerte shock completo da letto in flanella matrimoniale 16,99 poi abbiamo il guanciale per classico che sarebbe per il letto e poi qui abbiamo altre cosine 7 coppie di federe e poi qui abbiamo un cassettone un cassettone multiuso un bowl multiuso e questi qua che sono diciamo per riordinare la scappiera e il portaborse e qui ci sono dei delle cassettiere cassettiera alta e cassettiera più bassa e legno in paulonia che è 34 euro e 99 il pulitore a vapore non avevo mai visto e tante altre cose mamma mia che c'è c'è anche una lavatrice offerte shock lavatrice 199 euro e 99 ed è una quantità limitata ma di quanti chili è? 7 kg poi qui abbiamo un ferro da stiro professionale termozetta 39,99 un ferro da stiro più normale e più classico roventa 19,99 e abbiamo l'abbigliamento jeans da donna elasticizzato 9,99 cioè 10 euro la maglia 9,99 beh potete dare uno sguardo voi tutti le scarpe scarpa uomo e sono 19,99 qui abbiamo la cuccia per i cagnolini o per i gatti quella per i gatti e quella per i cagnolini molto interessante il cuscino per animali 12,99 basta abbiamo tantissime cose e anche i giochini per gli animali in peluche molto molto carini e niente mi pare che stiamo finendo qui ci sono tutte le offerte di viaggi niente ragazzi questo era il mio nuovo video categoria di video spogliamo il volantino queste volte di euro spin spero di essere stata chiara scusate se ho fatto degli errori magari anche con l'inquadratura e la messa a fuoco vi ringrazio ci rivediamo presto in un prossimo video ciao